È stata un'esperienza direi avventurosa, ma molto formativa e interessante, anche perché l'abbiamo vissuta in gruppo. 17 tra docenti e personale ATA dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca erano così partiti lo scorso 27 agosto alla volta di Dublino per frequentare i corsi di General English di diversi livelli grazie al progetto Erasmus+. Un'esperienza adesso condivisa con il resto della scuola. L'esperienza Erasmus è stata un'esperienza positiva dal punto di vista soprattutto umano e professionale perché ci ha permesso a qualcuno di rinfrescare le sue conoscenze di lingua straniera, ad altri invece ha permesso di acquisire le competenze necessarie per poter affrontare giornalmente la vita della nostra scuola perché nella nostra scuola dobbiamo dire che l'utenza è formata più che altro dal 17% di utenza multietnica per cui c'è bisogno di rapportarsi con famiglie che non conoscono l'italiano e con cui possiamo scambiarci opinioni oppure possono avere informazioni soltanto nella lingua inglese. C'è da dire anche che non solo gli insegnanti hanno partecipato ma anche il personale ATA che è quello che ha confronto diretto con le famiglie e l'utenza della nostra scuola. Diventa secondo me un valore aggiunto per il nostro lavoro, per svolgere meglio il nostro lavoro proprio perché siamo al fronte davanti alle persone, quindi all'accoglienza delle famiglie che parlano anche solamente inglese.